Innocenti, accompagnatore ufficiale dell'FC Ponzacco, tu che vivi ogni partita dalla panchina, cosa si prova ad essere a un passo della Serie D e in semifinale di Coppa Italia? Per me è una grandissima soddisfazione, anche perché questo è il quinto anno di eccellenza. Sarebbe anche il caso di levarci. Sì, effettivamente ora sta un po' stretto, perché con il gruppo che abbiamo, giustamente, siamo in testa al campionato e ci meritiamo di esserci, siamo in semifinale di Coppa Italia, che effettivamente non abbiamo perso una partita, anzi, mi sembra che abbiamo vinto tutte e quindi penso che ce la meritiamo alla grande. È un bel gruppo, la panchina ci sta bene, bisogna saperci stare perché c'è sempre quello un po' più esuberante che cerca di essere un po' più cattivo, ma almeno con la mia tranquillità e con l'esperienza che ho io cerco sempre di calmarli, quindi andiamo avanti così, benissimo, senza nessun scossone, senza nessun problema. Anche perché dopo tre minuti del secondo tempo la partita si era un po' riaperta, loro hanno avuto un po' più di sopravvento nell'area del Ponzacco, poi passati 15 minuti del secondo tempo la squadra ha ripreso a giocare e ha segnato il terzo e il quarto gol. Certo, loro rientrando in campo nel secondo tempo hanno cercato di metterci tutto quello che avevano in corpo per vedere di riaprire la partita, effettivamente ci sono riusciti, però con l'esperienza mia di quest'anno con questa squadra, il gruppo che abbiamo, non avevamo nessun dubbio di portare in fondo la partita senza subire più di tanto. Effettivamente poi è passato 10 minuti in quarto d'ora e la partita l'abbiamo ripresa a mano noi e l'abbiamo portata in fondo come effettivamente sappiamo fare. Per concludere, chi è il più esuberante in panchina da tenere? È un po' più difficile da tenere. Con il fatto di l'esperienza, Balestri è quello che sta sempre a inveire, a urlare, bisogna sempre recarmarlo. Ora se ne è aggiunto un altro che ho sentito, anche lui ha una bella voce, è Gaffino che oggi ho sentito, ha urlato abbastanza. Poi c'è qui il nostro team manager che all'inizio era abbastanza, diciamo, cattivo in panchina, anche lui si è tranquillizzato e ora non ci sono nessun problema. Si porta in fondo le partite senza subire squalifiche o espulsioni.